Oggi ragazzi mi sento imbattibile, secondo me vinciamo la prima partita del giorno, un bel pollicione in su, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e buona missione. Bene ragazzi, qua è Step e bentornati con questo nuovo video di Fortnite. Il mietitore della morte è tornato e quest'oggi è più carico che mai. Voglio però acquistare questa nuova emote che c'è nel negozio, quando fai una kill e fai oh oh, e perché ha visto a kill? Ovviamente ricordatevi di mettere il codice stepni quando fate degli acquisti così potete supportarmi per l'acquisto di futile skin in futuro per l'appunto. Lo scrivete qua, cliccate accetta ed è fatto. Scegliamo subito un posto decente e fiondiamoci a capofitto per fare la strage più totale. Io azzarderei un Leaky Lake, un bel cratere della morte, ci portiamo a casa 5 kill, poi andiamo a Pinnacoli, altre 3, 8 kill, chiudiamo con 12 e siamo felici e contenti. Ho già fatto il riassunto della partita prima ancora che cominci, vabbè ci proviamo. Cioè quello che ho detto è la speranza ovviamente, è the best of the best che potrei aspettarmi ovviamente, niente di più, niente di meno. Il fatto è che questo posto è veramente una miniera d'oro, cioè c'è di tutto e di più. Perché quello è andato là? Per quale motivo? Non aveva senso, ma è mossa, vabbè. Uccidiamone uno, buttato giù, c'è il cecchino e il pompa. Va bene. C'è un lama! Non ci credo. Incredibile! Infischiamocene di tutto e tutti e andiamo a prendere quel lama adesso. Quando vedete un lama va portato istantaneamente in saccoccia al sicuro. Vai, vai, veloce! Come se non ci fosse altra ragione di vita, raga. Tutti, tutti, che lo spacchiamo a dovere. Bella storia. Ma cosa vuole questo? Veramente vuole rompere a me? Non ha materiali, quindi non può raggiungermi, giustamente. Che caspita. Mi avevo messo un po' per ammazzarlo, ho sprecato tutti i materiali presi dal lama. Ma che ci devo fare? Questo qui era buggato. La soddisfazione di recuperare il lama, cioè capite, è tutta un'altra cosa. In compenso abbiamo perso tutto il combattimento qua dentro, purtroppo. Ma va bene, ci può stare. Ne ho visto uno, sta andando là dietro. Vediamo un po'. Neh, mancato. Ucciso, cata. Poverino, era one hit, non ha trovato neanche le bende. Un po' mi dispiace, ma eh, questa è la vita. C'era la Desert Eagle, il Desert Eagle tanta roba. C'era anche lo scudo? Perché lo scudo non se l'era sparato? Non lo so. Ci spariamo lo scudo, ci spariamo il medikit con 175 di vita. Ora andiamo finalmente a Pinnacoli per seguire il piano, come vi avevo detto prima. Vogliamo questa e vogliamo anche il suo AK. Nel caso in cui volessimo davvero andare a Pinnacoli, o perlomeno provare a uccidere quelli rimasti, dobbiamo sbrigarci. Si sparano dietro di me. Che caspita. Salterelli come un dannato. Avevi almeno cose buone per noi? Sì, un po' di materiali ci sono. Siamo pronti per Pinnacoli e ci hanno messo anche la safe qua giù in fondo. Cecchino là sopra, va bene. Lo posso fare, sì, sì, ci credo in questo sogno chiamato Pinnacoli. Vai, se fermo un secondo magari. Dai così, fermati un attimo, ti prego. Ha saltato! Eh no. Siamo finiti nel mezzo a un trip brutto, non ci piace. Perché non costru... No? Che è successo? Non so perché non ha costruito... Cioè io... Mannaggia la miseria! Era andato tutto alla grande! La intro perfetta! Vado lì e ammazzo 5! Pinnacoli! Ce l'avevo creduto anche io ragazzi. Vabbè, mi facciamo un altro. Peccato. So che dirvi. Sempre nel mezzo a due fuochi, eh. Ma che sfiga! Siamo da questo lato, ce la stanno chiamando. Tentativo numero 2. Con atterraggio in zona corrotta. Il piano del terrore di Stepney. Vediamo, si vedono c'è sta ancora. Spero che qualcosa ci sia, sinceramente... Una! Eh no, una è troppo poca raga. Soprattutto se uno è già più basso di noi. Andiamo diretti qua sotto, forse è meglio. Fermo qua. Mi fermo assolutamente qua. Eccoci. Ha trovato il cecchino, magari mi manca. Ha mancato davvero. Ha scappato. Si è andato a gambe. È sull'albero, raga. È sull'albero. No, è morto. È morto, è morto. Rido troppo, ve lo giuro. Dammi il cecchino, va. Oh, no. Che c... Oh, no. Annaggia la miseria. Annaggia la miseria. Dobbiamo ucciderlo, eh. Non so come. What? Ma che caspita questo corre con la capa? Gli spartono i colpi dritti. Questo atterraggio non vale, come potete immaginare. Proviamo una partita diversa, dai. Andiamo a Boschetto Bisunto. Ci sono due chest nel cratere. Una situazione alquanto interessante. Nessuno si ferma qua. Quindi vuol dire che le prendo io. Va benissimo. Yes. Un caccia. Delle rimbalzine. Non ci fanno impazzire. Neanche questo ci fa impazzire. Cavolo! Va bene, va bene, va bene. Si può fare. Dobbiamo fare qualcosa adesso, raga. Come, come, come fa? Come fa? E levati. Quanta roba c'aveva questo fin? L'abbiamo fatto fuori così? Veramente? Oppi, oddio. Arrivano granate. Adios. Che goduria, raga. Che goduria. Beccati sto dip! Mi ero dimenticato completamente di farlo. Chiedo scusa. Avevo detto che l'avremmo fatto, ma ne ero scordato. Dai, il complesso è stato divertente, devo ammettere. Let's go. Abbiamo fatto pulito questo posto. Adesso, veloci, concentriamoci. Non ho tantissimo scudo, ma c'è ancora tutta quanta la città da lutare, in teoria. Sbrigiamoci, davvero. Dobbiamo scappare. Ogni kill dovevamo fare il dip e me l'ero completamente scordato. Scusate, ero troppo preso dalla partita in generale. Comunque, non me la sto cavando malissimo, dai. Quello lì, poveraccio, non è riuscito a spararsi neanche uno degli scudini che aveva trovato. Vabbè, succede. Sono cose che capitano. C'è qualcuno che sta sparando? Dove? Aspettatemi. No, 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 no. Uccidere, non l'uccidere, ti prego. Ok, l'ho preso io. Il diavolo è quello che sparava? Sono impazzito io o sono spariti? Vabbè, quanta roba c'erava sopra. Wow. Wow! Addio lanciagranate, è stato un piacere utilizzarti. Ah, ok. Tortacci sua. Addio Krylz. Ho perso tutto il mio scudo. Che noia. Lui ovviamente mi stava sparando senza niente. Non avrà mai lo scudo nella vita. Adesso noi siamo fregati. Vi rendete conto? Cioè, questa cosa non ha senso. Ho trovato anche delle granate. Ma sapete che vi dico? Ma chi se ne frega di portare le bende? Vado a prendere il lanciagranate. Tra poco dobbiamo andare via col quad. Ve lo dico già in anticipo, ragazzi. Sì, quindi speriamo di trovare qualcosa di decente qua dentro. Altrimenti siamo nella cacca più totale. Due chest. Mamma mia. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non avrei potuto chiedere mai nella vita qualcosa di meglio di così. Proprio zero. Vi dirò di più. Prendiamo anche lo scar che fa casino senza fregarcene. Direttamente. Vai a diritto. Solo per una pozione grande lascio le cose. Va bene, andiamo. Oh mio Dio, lo slurp. E vabbè. Addio lanciagranate. È stato un piacere. Fortunatamente col quad non c'è verso di morire la safe. È bellissimo sta cosa. Ti permette di stare più tempo in città e di potertene andare quando vuoi. I like this very much. Sapete che non sono un fan del lanciagranate, quindi l'abbiamo lasciato preferito il caccia. Ti permette di prendere vantaggio dalla distanza, hittare, boh, tanta danni e poi pushare. Cerchiamo di non passare da pinnacoli. Se possiamo evitare, evitiamo. Inizia a piottare veloce la safe. Sbrighiamoci. No, non bello. Non bello per niente questo. Aiuto! Oh, oh, oh! What the... What? Ti prego, arrivaci. Ti prego. No, no, no! No! Non ci vedo. Aiuto. No! È disastro. Non ci voglio vedere. È andato tutto bene, non ci è arrivato. Io che stavo già godendo perché avevamo trovato anche la pozione che sta qui. Devo già spararla purtroppo, a meno che non ci sia un falò. Dobbiamo usarla. Che tristezza. Non voglio giocare con meno vita del previsto. Non sa mai. Guarda laggiù in fondo. Oh, lolo! 86. C'ho una mira incredibile comunque. E no. Preso anche lui. Puoi fare il figo con Stepney. Adesso muori. Posso non spararmi da due lati? Cavolo! Andarci, raga. È finita. La safe non mi sta prendendo. Non so perché ma è più lenta di noi. Non c'è tempo di fermarsi a uccidere quello dietro, raga. Vorrei tanto, ma non c'è tempo. Mi dispiace. Andiamo veloci quanto la safe. Questa è fortuna, eh. Ve lo giuro. Dovevamo morire. Noi dovevamo essere morti, ve lo giuro. Combattono ancora dietro? Sti cavoli, raga. È stato senza dubbio molto divertente. Lo ammetto. Non so neanche come faccio ad essere vivo. Se volete sapere la verità. Saper costruire scala, muro, piattaforma è tutto un altro discorso. Cioè, significa essere a un livello superiore degli altri. E vi direi, intanto mangiamo due mele. Altrimenti muoio da un headshot di AK dorato e non è una cosa bella. Incredibile. Ci sono le chest, non mi sembra vero. Due chest, due chest, due chest. Un medikit, va bene. Una pozione a 50. Siamo tornati in partita. Non so nemmeno come. Ve lo giuro. Non so nemmeno come. Il nostro amico Emma Robot l'ha davanti. Io ho paura dei robot, ve lo dico. Aia. Sta granatando me? Sì, sta granatando me. Esattamente. Sta proprio granatando me. Vuoi fare il figo con Stepney? Non puoi prendermi qua dietro, stupido. È morto, Godo. No, di nuovo no, eh. Di nuovo non ce la faccio, raga. No, no, ti prego. Veloce, dov'è il drop? Quanto ci mette a scendere? Veloce. Due pozioni piccole e una grande. Oddio. Oddio, non ci voglio credere. Ma la smetti? Buffone, abbozzala. Basta, smettila, ti prego. Devo andare via. Devo aspettare che lui scenda. No, raga, è impossibile. No, vabbè, da che dici? No, dai, non è vero. Oh, mio Dio. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Che bello, raga. Che bello. Che bello. È una soddisfazione atroce. Che partita ho giocato. Concentrazione a 2000 si sono ammazzati a vicenda ma mi hanno focussato fino alla fine. Cioè, è una roba allucinante. Che goduria. Il mio titore è tornato e se l'è portata a casa. Bella, raga. Io sto godendo un sacco, veramente. Cioè, pensavo di essere morto più di una volta in questa partita. Avevo rimontato l'irrimontabile. Cari amici, il mio titore risorge dalla morte e porta a casa la vittoria reale. Mi raccomando, lasciate un bel ballicciolizzo e cammette a discrivervi. Se non mi ha fatto la campanellina. Adesso ci vediamo la prossima prossima video. Qua, sapete. Ah, che bello. Che soddisfazione enorme. Non potete capire. Cioè, sì, potete capire. Dodo. Dodo.